gentili telespettatori buona giornata Elena Dettaelli la grande capa del partito democratico prende le distanze da De Luca è riuscita a prendere le distanze da De Luca beh, dobbiamo dire che sta facendo dei piccoli progressi come i piccoli passi sulla luna che sono poi un grande progresso per l'umanità è riuscita a prendere le distanze da De Luca che ha detto che il governo sono dei delinquenti politici e poi un sacco di parolacce e lei dice no, no al turpiloquio usato anche contro di noi di noi ma diciamo che De Luca fa parte del partito democratico almeno ufficialmente fa parte del partito democratico ma realmente non credo più non credo più che possa definirsi De Luca del partito democratico Lashlein dice no al turpiloquio perché lui lo usa anche contro di noi in effetti De Luca ha usato parole offensive anche contro il suo stesso partito ha fatto anche un libro nonostante il PD ecco pertanto che cos'è il turpiloquio? modo di esprimersi osceno o blasfemo offensivo nei riguardi della morale individuale o della pubblica decenza il turpiloquio è un modo di parlare volgare offensivo irriverente utilizzato per mostrare disappunto disprezzo o schieramento verso qualcosa o qualcuno può consistere nell'utilizzo di imprecazioni parolacce e bestemmi usate anche come intercalare quindi diciamo che è corretto il termine utilizzato da da Elena turpiloquio ha utilizzato la parola giusta poi aggiunge Elena come al solito Meloni però sposta l'attenzione dalla vera questione che sono le scelte antimeridionaliste del governo allora antimeridionalismo antimeridionalismo vediamo se troviamo esattamente il significato di antimeridionalismo l'antimeridionalismo è l'avversione per il mezzogiorno dal vecchio federalismo ecco antimeridionalismo secondo me qui c'è un errore perché le scelte antimeridionaliste quindi scelte contro il mezzogiorno contro il sud dell'Italia le scelte contro il sud dell'Italia sarebbero il blocco dei fondi che poi non si è capito bene in cosa consista il blocco dei fondi e poi l'autonomia differenziata secondo la capa la Meloni cambia discorso per non parlare di questo in realtà non è che devi parlare di questo o solo di questo puoi parlare anche di diverse cose se tu mentre fai una cosa c'è De Luca che ti insulta tu dici smettila di insultarmi non è che dicendo smettila di insultarmi vuoi distrarre l'attenzione pubblica dalle vere delle vere questioni ci sono tante cose che vanno avanti parallele se mentre tu stai facendo tante cose c'è uno che ti insulta dici scusa ma non mi insultare ecco no hai detto non mi insultare stai sviando l'attenzione dalle vere questioni no sto solo dicendo a quello lì di non insultarmi non è sviare proprio niente non è tentare di nascondere proprio nulla quindi il fatto di dire prendo le distanze ma tu stai facendo no devi essere Schlein un politico di un certo tipo devi dire prendo le distanze dal turpiloquio di De Luca punto poi in un'altra intervista parli dell'antimeridionalismo presunto di Meloni però se metti le due cose attaccate fai una figuraccia perché è sempre la solita storia sì lui ha sbagliato ma tu sì ma tu sì ma tu sì ma tu quello che fanno i politici no ah vabbè il mio ha sbagliato ma anche tu ah il mio ha detto una cosa sbagliata ha torto ma anche tu invece che no ma l'anche tu invece che lo devi lasciare in un'altra intervista devi scindere le due cose se no ci fai la solita figura dell'ideologica che ammette lo sbaglio dei suoi ma lo ammette e in contemporanea dice sì ma tu sì ma tu ecco devi spiegatelo alla Schlein fategli un corso di come si fa il politico prima prendi le distanze e fai una bella figura prendi le distanze da De Luca e fai una bella figura poi in un'altra intervista parli del presunto antimeriodalismo della Meloni dividi le due cose perché se le metti insieme ci fai una figura proprio di pochezza no sì lui ha sbagliato ma tu invece nascondi non siamo mica all'asilo eh non siamo mica all'asilo ma questo non lo fa solo lei eh non lo fa solo lei lo fanno un po' tutti ah il mio sì ma tu no il mio sì ma tu sembra veramente di parlare con dei quattordicenni delle scuole medie sembra di parlare con gente che non abbia nessuna esperienza di vita non solo di politica ma neanche di vita di comportamento con gli altri di socializzazione certo che se ci fosse una politica un po' più intelligente io non saprei neanche di cosa parlarvi tutti i giorni perché se fossero i politici italiani in un certo modo non ci sarebbe quasi nulla da dire se fossero onestamente corretti intellettualmente corretti ci sarebbero pochi video da fare perché sarebbe anche noiosa la politica italiana invece abbiamo a che fare con dei quattordicenni eh sì dei quattordicenni ed è pericoloso in un mondo così aggressivo avere uno stato e una politica di quattordicenni allo sbaraglio è veramente pericoloso bene infatti Lashlein dice fossi in lei sarei più preoccupata del giudizio degli italiani sulle politiche scellerate del suo esecutivo e gli italiani la votano di più da quando governa pertanto come fa la Meloni a essere preoccupata del giudizio degli italiani che ha aumentato i suoi elettori mentre sta governando quindi è contenta del giudizio degli italiani la Meloni non preoccupata Schlein non diciamo mai le cose giuste non c'è mai una cosa di senso compiuto che dici perché non puoi dire una cosa giusta una una alla settimana no eh arrivederci a tutti e grazie